Sono contento in primis per la prestazione e la vittoria della squadra perché ci voleva, ce la meritavamo, sta nascendo un bel gruppo quindi era molto importante. Poi ovviamente sono contento di averla sbloccata come sono contento anche che ha fatto col Pietro e niente l'importante era vincere, ne abbiamo fatto quindi a domani si pensa già alla prossima.